A me sembra che sia tutta Italia, tranne la Sardegna, che si sta rapidamente a passi lunghi avvicinando a questa situazione. È ovvio che la Lombardia, essendo la regione cardine di questo paese e avendo vissuto quello che ha vissuto nel corso del passato anno, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni. Ma personalmente, voglio dire chiaramente, non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre regioni, dove fra l'altro ho anche frestato la mia opera da volontario nel corso dei mesi passati. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Questo è il punto. E questo l'ho detto anche ai miei colleghi, i neo nominati, il terzetto straordinario che da Roma adesso ci deve aiutare, governare e guidare in questa grandissima sfida. Quindi adesso c'è il passaggio di consegne, ma loro stanno già lavorando a vento a terra perché non possiamo perdere tempo in passaggi di consegne, firme di carte, eccetera. Qui bisogna andare a correre. Bisogna poi affrontare tutta una serie di problematiche che sono già state sollevate un po' ormai da tutti, una sola dose per cercare di fermare questa incidenza che cresce dell'epidemia oppure l'utilizzo di farmaci, di vaccini che sono in fase di registrazione, accelerare anche questa procedura. Insomma, si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo per dare uno scossone a questa situazione. Oggi ci abbiamo le pallottole, no? Che sono i vaccini. Quindi bisogna andare a Bruxelles, bisogna battere i pugni sul tavolo, bisogna imporsi, bisogna vedere quanti vaccini hanno dato alle altre nazioni. Insomma, ci vuole una forte attività, ci vuole anche un po' di aggressività positiva nei confronti delle istituzioni internazionali e di quelli che producono i vaccini. Capire perché questi vaccini vanno a Dubai invece che venire in Europa. Insomma, c'è da fare un grosso lavoro sul quale credo che siano tutti impegnati a livello di governo nuovo.